Rubate due marmitte a due auto modello smart in via campagna nei pressi del ristorante il vecchio mulino d'agropoli. Nella notte tra lunedì e martedì i gnoti hanno smontato il parabrezza dell'auto e portato via la marmitta. Un secondo episodio di furto simile al primo si è verificato sempre nello stesso punto. La modalità è sempre la stessa, cambia solo il proprietario dell'auto ma il modello della macchina è lo stesso ed il furto è stato effettuato invece questa volta nella notte tra mercoledì e giovedì scorso. Le auto sono state completamente smontate causando un danno di oltre 300 euro.